... ... come è l'uscire chi desidera può passare a firmare per traverso come gli pare questo foglio che poi noi metteremo sul sito tutto intorno abbiamo appeso queste immagini tratte dal libro di Spella a Orda quando gli albanesi eravamo noi che racconta la storia della emigrazione italiana e quindi chi vuole di nuovo uscendo a fare un giro per ritrovare un petto della nostra storia perché la memoria è la cosa più importante che noi dobbiamo conservare per i ragazzi delle scuole che avranno le attività di sensibilizzazione delle settimane a venire ci ritroveremo con un ricco materiale che abbiamo preparato in modo tale da aiutarci a riflettere in modo più approfondito su parecchie delle cose che oggi abbiamo soltanto potuto accennare grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.